Ciao a tutti ben ritrovati sul mio canale oggi spacchiamo i palloncini verdi l'altra volta blu oggi verdi facciamo i palloncini Time to paint him! c'è un nuovo modo c'è un nuovo modo per spaccare i palloncini gli schiaccio ecco, questo è il nuovo modo basta schiacciarli un po' e si spaccano c'è un po' e si spaccano c'è un po' e si spaccano e abbiamo spaccato tutti ciao 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 ciao